Il settore delle costruzioni è quello più colpito per numero di vittime sul lavoro e la Sicilia è la seconda regione del sud Italia, quinta su scala nazionale. E' la drammatica proiezione che emerge dai dati elaborati dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering nell'anno 2014. Palermo purtroppo è la provincia siciliana che fa rilevare il dato più grave di decessi 14, ponendola all'ottavo posto della graduatoria nazionale delle province più colpite delle morti verificatisi sul lavoro. La prima è Roma con 34 vittime. Sono 12 invece gli infortuni mortali complessivi rilevati in provincia di Messina e altrettanti a Catania. 11 quelli nel Seracusano seguono quindi Caltanissetta con 10 e Nasei, Trapani 5 e Agrigento 4 chiude Ragusa con 3. La Sicilia è poi purtroppo anche al quarto posto per incidenza di mortalità sulla popolazione lavorativa, con un indice pari a 49,2% contro una media nazionale di 33,2. Un indicatore ben superiore rispetto alla media del paese che delinea ancora più nitidamente il doloroso fenomeno delle morti sul lavoro. Sono soprattutto i cinquantenni ad essere maggiormente coinvolti dalle tragedie, 27 su 77, mentre sono 20 i quarantenni che in Sicilia nel corso del 2014 hanno perso la propria vita sul posto di lavoro. E la morte in Sicilia, stando ai dati elaborati dall'osservatorio Mestrino sulla base di dati INAIL, si incontra soprattutto nei cantieri edili perché è proprio il settore delle costruzioni a contare il maggior numero di vittime, 21. Seguono le attività manifatturiere, il commercio all'ingrosso e al dettaglio con 7 vittime. Quindi il settore dei trasporti è in magazzinaggio con 6 infortuni mortali. Le morti sul lavoro registrate in Italia nel 2014 sono state in totale 1.009, delle quali 263 conseguenti a incidenti verificatisi durante il percorso che il lavoratore compie per andare al lavoro o dopo aver finito di lavorare.